Riunione oggi intorno alle 12.30 tra il direttore dell'Istituto Autonomo Case Popolari di Caltanissetta, Vincenzo Zaffarana, e l'assessore alle politiche sociali, Carlo Campione, per discutere ancora una volta del palazzo di Via Redentore, mai più costruito dopo che nel 2010 venne abbattuto, e per discutere dell'ex caserma dei Carabinieri di Santa Barbara. L'OIACP ha chiesto all'assessore Campione di trovare un'altra area comunale per ricostruire il famoso palazzo, tristemente famoso, perché Via Redentore non è adatta per problemi geologici. L'assessore Campione, attraverso l'ufficio tecnico e l'ingegnere capo Giuseppe Tomasella, ha individuato come area lo stazzone. Questa proposta è stata fatta oggi al direttore Vincenzo Zaffarana. Per quanto riguarda l'ex caserma dei Carabinieri, l'assessore Campione propone di fare eseguire lavori di ristrutturazione, senza però far uscire di casa le famiglie, perché a suo avviso non ce n'è bisogno, o al massimo due sole famiglie dovrebbero uscire. Sempre per poi poter rientrare, perché l'assessore Campione sta lavorando attraverso l'ufficio legale per fare firmare i contratti ai residenti. Le famiglie che dovranno lasciare le case per via dei lavori di ristrutturazione comunque non resteranno senza una casa. Infatti l'assessore sta provvedendo attraverso la Caritas ad affittare degli appartamenti per il periodo che sarà necessario.